Che cos'è un lead magnet? Il lead magnet è quella risorsa che tu offri all'utente che atterra all'interno della landing page in cambio del suo contatto. Molti imprenditori o liberi professionisti non hanno la più pallida idea di cosa proporre in cambio del contatto. Quindi ho creato questo video con l'augurio che possa aiutarti al fine di scegliere il lead magnet che è più adeguato alle tue esigenze. Innanzitutto perché è importante creare un lead magnet? Perché è quell'incentivo che permette all'utente di dire vabbè lo sai che c'è? Il contatto lo lascio. Ricordati che anche acquisire un contatto è un'attività di vendita quindi scambiare un contenuto per un contatto può essere un giusto compromesso. Ma quale lead magnet posso dare? Beh ce ne sanno diversi, ce ne sanno tantissimi. Per consigliarti quello specifico dovrei conoscere la tua situazione, che lavoro fai, di cosa ti occupi, qual è l'obiettivo della tua landing page. Ma diciamo che ne puoi offrire così tanti. Puoi offrire una consulenza gratuita, puoi offrire un estratto di un ebook. Se sei una società di servizi puoi creare un ebook specifico con all'interno un pulsante virtuale per farti ricontattare. Se sei un formatore puoi offrire una sequenza di quattro video per nutrire e poi proporre magari il tuo prodotto a chi è veramente interessato. Puoi anche fornire semplicemente una sequenza di mail oppure un'iscrizione alla newsletter dove tu informi le persone che lasceranno il contatto di quando posterai un contenuto utile per loro. Veramente puoi spaziare come vuoi. Il discorso è capire qual è il lead magnet più adatto alle tue esigenze. Quindi se hai problemi, dei dubbi o delle perplessità e vuoi condividerle con me analizziamo insieme la tua situazione. Dopo aver capito più nello specifico di cosa ti occupi sicuramente potremmo trovare insieme la soluzione più ideale per te. Anche per oggi è tutto, grazie e al prossimo video!